Ciao a tutti, questi sono i materiali che ho preparato per allestire una proposta esperienza da fare ai vostri bimbi in questi giorni che sono a casa, un'esperienza che può essere utile per simulare la loro motricità fine. Io ho preparato un panetto di pasta di sale all'interno del quale ho inserito due spaghetti. Se avete già qualcosa da poter utilizzare in casa come base di appoggio, ad esempio polesterolo, una spugna o anche le basi che utilizzano i fiorai per fare le composizioni o anche il dido dei vostri bimbi potete utilizzarlo tranquillamente vanno benissimo e in alternativa agli spaghetti potete usare anche bastoncini degli spiedini con la punta rivolta verso il basso. Di fianco a questo piccolo allestimento andate a offrire ai vostri bambini all'interno di alcuni vasetti della pasta di diverso formato forata. Se avete un formato ancora più piccolino da poter inserire nella varietà della pasta che gli andate a offrire meglio ancora perché essendo più difficile da afferrare per loro va a stimolare maggiormente la loro motricità fine. Quello che andranno a fare i vostri bimbi probabilmente vedendo questo tipo di allestimento sarà quello di andare a inserire la pasta all'interno degli spaghetti o dei bastoncini questo li terrà concentrati per tempi più o meno lunghi in base a quella che è la loro età. Per quanto riguarda i bambini più piccoli è probabile che andranno a concentrarsi di più nella fare esplorazione dei materiali che gli offrite quindi magari rovesciare i vasetti, travasare il contenuto da un contenitore all'altro e a questo punto gli possiamo andare a offrire possiamo andare a offrire altri tipi anche di materiali anche di formati diversi. Io ad esempio avevo in casa farina di mais, couscous, pastina per il brodo, fiocchini e ovviamente la pasta che avete già visto e quindi quello che avete in casa da poterli offrire va più che bene e a questo punto lasciarli esplorare e lasciarli manipolare. Se volete potete dare loro anche dei cucchiai da utilizzare come strumenti per fare travasi e aggiungere anche dei contenitori di diverso formato e diverse misure perché no anche degli imbuti per fare appunto i loro travasi e fare le loro esplorazioni. Per quanto riguarda invece i bambini più grandi una volta terminato il tempo d'attenzione nei confronti di questa esperienza si può andare a proporre loro anche un altro strumento che può essere un filo che avete in casa oppure dello spago da cucina come questo e si può proporre loro di fare dei bracciali e delle collane per proseguire l'esperienza e in un secondo momento ancora si può anche proporre loro di andarlo a decorare e dipingere.